Direttamente dal proprio parrucchiere di fiducia, Emma Marrone si è lasciata andare ad una bella sessione di botte e risposta Instagram con i propri fan Diverse le domande a cui l'ex vincitrice di Sanremo ha risposto, ribadendo per l'ennesima volta di essere single E il fidanzato? È un principe azzurro meraviglioso, in sella ad un cavallo bianco, che non ha l'uscita USB Quindi non può collegare il navigatore. Quindi si è sicuramente perso un po' per strada Ma prima o poi capirà che il cavallo nel 2019 non è una grande idea. Allora noleggerà una car to go con Tom Tom integrato e arriverà da me Che nel frattempo sarò diventata vecchia e decrepita. E vissero tutti felici e contenti The end. Ho paura del buio, delle malattie, di morire, ho paura degli spazi piccoli, della cattiveria, dell'intolleranza e dell'ignoranza Ho paura che il mio metabolismo rallenti ancora di più. Ho paura di fallire e di non avere la forza di ricominciare Ho paura di tante altre cose e ogni giorno mi impegno a combattere tutte queste paranoie Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like .